Andiamo avanti adesso con una fase del nostro show, una fase nostalgica diciamo, operazione nostalgia con la canzone tratta dal disco disco dal mio corpo e ho molta paura, ocio ocio, pensate che storia, sempre dalla terra. Siamo tutti amici, ci vogliamo bene, ci scambiamo di nascosto le figurine, ma dobbiamo fare molta attenzione ad un buon tempone, ocio ocio ocio, è una riedizione del ricco Apulone, è conosciuto perché mostra tutti quanti bene, vedrete i suoi consigli e lo raggiungerete l'età della pressione, state attentissimi. Sembra uno buono, diciamo che suona bene, è cattivissimo, è un po' come il postiglione di Pinocchio. Sono Brader Elio, sono un vacchettone, sono l'avversario di Brader Apulene, non mi metto in guardia, da quello surioso, è la mia missione. Far l'amore è bello, ma è lì di canello, ed è un po' come la cruda, come il cammello, ed ascoltate quello, cioè Brader Apulene, il cammello muore. You don't listen to Brader Elio, listen to me, Brader Apulene e il yo, don't think I worry of the cammello, Brader and sister all over the world. Sempre tanto! Devi fare molta attenzione a Brader Apulene e il mio amore. Dovete farmi prendere da questo ritmo tarantella. Viva! Oggio, 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 oggio. Grazie, questo nostro show in realtà è un altro tentativo di fare decollare il sogno di Fonopoli. Un bel applauso, ma abbiamo parlato già troppo di Fonopoli. Adesso... Ok, ok, in grado. Un moment, per favore. Entweder Fleisch oggio oggio. Ok?